Un clima da far west nella sera del Corpus Domini, probabilmente più di una batteria di ladri in azione tra alcune contratti di Montefalcione, bande formate da tre o quattro soggetti con il volto travisato e armati con attrezzi da scasso. Non sono mancati momenti di alta tensione, visto la spregiudicatezza dei malviventi che hanno agito anche con le persone in casa. In alcuni casi i raid sono andati a vuoto anche per la perentoria reazione delle vittime in più di un'occasione. Si sono sentiti anche degli spari in aria, gli animi dei cittadini sono esasperati. Le rapine sciocche avvenute ad Atipalda e Grotta Minarda la settimana scorsa hanno alzato di molto il livello di attenzione. Le pattuglie dei carabinieri, allertate dai residenti, per ore hanno monitorato la zona. Una caccia all'uomo, scattata anche lungo le campagne a ridosso del paese, non si sta tranquilli, nemmeno blindati in casa, rivela ancora scossa una delle vittime. C'era mio padre nell'altra parte della casa che guardava la televisione e hanno svuotato tutto, hanno rubato soldi e oro. Mio padre, grazie a Dio, non si è accorto di nulla, però essendo una persona anziana avrebbe potuto rischiare grosso, visto pure la spudoratezza con cui agiscono. È diventato invivibile. Insomma, veramente sembra di vivere un incubo. A me fa paura il fatto che entrino in casa con persone dentro. È questo che è sconvolgente. Da settimane il paese, finito nel mirino delle bande dei ladri, c'è chi si è ritrovato, i malviventi, sotto la finestra. Eh, ma immagino questo mio fratello che è rimasto talmente scossato che non dorme più la notte. Mi ha detto, ma che te ne fotti, vatti i curcari, non ti preoccupare. No, io non ce la faccio a dormire. È un macello.